A questo punto Enrico doveva assolutamente recuperare il suo potere. Si recò quindi a Canossa, dove si trovava Gregorio VII, ospite della contessa Matilde. Attese per tre giorni di essere ricevuto e si presentò in abito da penitente, a piedi scalzi e con un saio. L'umiliazione a cui si sottopose fu così grande da diventare nota come l'umiliazione di Canossa. Alla fine Gregorio ritirò la scomunica, ma per lui fu un grave errore.